Salve, benvenuti all'ultimo incontro di questo ciclo di sei video lezioni dedicato alla storia delle migrazioni in Italia dal 1920 al 2020 a cura di Biblioteche di Roma e del Consiglio Nazionale delle Ricerche e Istituto di Studi sul Mediterraneo. Questa è l'ultima video lezione ma rimaniamo a disposizione per eventuali domande e chiarimenti scrivendo alle mail indicate alla fine di ogni video. La lezione di oggi è dedicata agli ultimi 30 anni, quindi al periodo storico più vicino a noi, che è un periodo che è caratterizzato dalla crescita impetuosa dell'immigrazione straniera in Italia. Le presenze di cittadini stranieri nel nostro paese crescono in maniera molto importante dagli anni 90 ad oggi, superando il milione di presenze alla fine degli anni 90, arrivando ai 2 milioni di presenze all'inizio degli anni 2000, per poi arrivare rapidamente oltre 4 milioni all'inizio degli anni 2010 e fino a giungere alla situazione attuale di quasi 6 milioni di presenze. Da notare come questa crescita molto importante avvicina l'Italia agli altri paesi di più antica immigrazione per quel che riguarda la percentuale di popolazione straniera ed è una crescita questa che cambia il volto del paese e che si rallenta notevolmente, come potete vedere dal grafico, negli ultimi anni, negli ultimi anni, a partire più o meno dal 2014, a causa evidentemente della situazione economica del paese. Le nazionalità più presenti in Italia si modificano in questo periodo, vediamo una prima fase in cui sono importanti le nazionalità della sponda sud del Mediterraneo, Marocco, Tunisia, ma anche dell'Albania, Albania che soprattutto all'inizio degli anni 90 diventa uno dei paesi di immigrazione più importanti per l'Italia. Avvicinandosi a noi, come potete vedere, i diversi colori indicano la situazione delle presenze nei diversi anni, quindi col colore verde l'anno 2011, vedete la crescita importante dell'Albania ancora, ma soprattutto della Romania che diventa il più importante paese di provenienza per l'immigrazione in Italia, a seguito dell'apertura delle migrazioni con l'Europa dell'Est, l'ingresso della Romania nell'Unione Europea e l'apertura delle frontiere dopo il 2007. Gli ultimi dati ci danno ancora una crescita importante della presenza rumena, mentre invece un rallentamento di altre presenze storiche come il Marocco che vede una piccola crescita e l'Albania che vede addirittura un decremento delle presenze. Continuano presenze invece di altri paesi che diventano progressivamente più importanti come la Cina, l'Europa dell'Est, gli stati dell'ex Unione Sovietica, in particolare l'Ucraina e altri paesi. Abbiamo riportato per esempio il Senegal, a cui si può aggiungere la Nigeria, come i due paesi dell'Africa subsahariana più importanti a livello di presenze. Questa immigrazione si svolge all'interno di un quadro normativo che si fa via via sempre più articolato e complesso. Abbiamo visto nella scorsa lezione come la legge Martelli sia la prima legge organica che affronta tutti i temi relativi all'immigrazione, sia la politica degli ingressi che la concessione del diritto d'asilo. La legge Martelli del 1990 è l'atto che permette all'Italia poi di aderire nello stesso anno, nello stesso 1990, al trattato di Schengen che riguarda la libera mobilità all'interno dell'Unione Europea e poi la convenzione di Dublino invece sul trattamento dei richiedenti asilo. Entrambi questi due accordi avranno una applicazione negli anni successivi, verrà poi evidenziata la loro importanza negli anni successivi. Ma la legislazione si arricchisce, si rende più complessa negli anni successivi con i decreti Bini che istituiscono i primi centri temporanei per l'identificazione degli stranieri non regolarmente presenti e poi nel 1998 la legge turco-napolitano che fissa una serie di punti estremamente importanti dalla carta di soggiorno e quindi un'istensione dei diritti per gli immigrati che hanno la possibilità di soggiornare per periodi più lunghi, le istituzioni poi dei centri di permanenza temporanei, la velocizzazione di procedure di allontanamento e le misure anche misure per sostenere invece processi di integrazione. Le leggi successive dal 2002 in poi puntano maggiormente invece l'attenzione sull'aspetto delle espulsioni, degli allontanamenti e meno invece rispetto ai processi di integrazione, quindi si concentrano più su l'ingresso e l'espulsione di cittadini estremiere piuttosto che i fattori che riguardano invece la loro vita all'interno del paese. La Bossi Fini interviene sulla turco-napoletano restringendo la sfera dei diritti per gli immigrati moltiplicando le possibilità di espulsioni e legando in maniera più stretta il permesso di soggiorno al possesso di un lavoro, dunque in qualche maniera precarizzando anche la situazione degli immigrati nel paese. Il pacchetto sicurezza del 2009 rende la permanenza irregolare degli stranieri da un'infrazione amministrativa a un reato, gli successivi e più recenti decreti da decreto Miniti Orlando del 2017 e decreto di sicurezza del 2018-2019 si concentrano soprattutto sulle possibilità di espulsione dei cittadini irregolari e il problema della permanenza irregolare dei cittadini immigrati è un problema che accompagna tutta la storia dell'immigrazione in Italia e che è legato evidentemente a una insufficienza del quadro normativo nel recepire e regolarizzare in corso d'opera gli arrivi che soddisfano delle condizioni di stabilità. Dunque ogni intervento legislativo è accompagnato da un provvedimento di sanatoria che possa permettere l'emersione di almeno parte della popolazione straniera residente ma non regolarmente, non in regola col permesso di soggiorno e vediamo appunto come la storia della normativa italiana sulle migrazioni sia punteggiata da momenti periodici che con una periodicità ricorrente regolarizzano la posizione di molte decine di migliaia di persone. Dalla prima regolarizzazione dell'86 di cui aveva fatto cenno Michele Colucci nella scorsa elezione che riguarda 118 mila persone, a quella del 90 con la legge Martelli oltre 200 mila persone, nel 95 244 mila persone, nel 98 con la turconopolitano sono più di 200 mila persone. La più grande poi sanatoria italiana avviene nel 2002 insieme all'emanazione della Bossi Fini con oltre 600 mila persone che vedono regolarizzata la propria presenza e poi altre due più recenti, nel 2002 con quasi 300 mila regolarizzazioni e nel 2012 con poco più di 130 mila regolarizzazioni. Si stima che ad oggi il numero delle persone non regolarmente soggiornati sia intorno alle 400 mila unità e anche oggi vediamo come nel dibattito attuale il tema della sanatoria sia ancora estremamente attuale e presente. Nel 92 viene anche fissata una legge importante sulla cittadinanza che rimane a tutt'oggi il punto di riferimento normativo che concede la possibilità ai cittadini stranieri di naturalizzarsi, di diventare italiani con delle condizioni abbastanza rigide, per cui l'immigrato che può dimostrare di avere 10 anni di permanenza nel nostro paese e soddisfia alcune condizioni, può discrezionalmente da parte dell'autorità ottenere la cittadinanza italiana. I figli degli immigrati, quindi ragazzi nati in Italia, hanno diritto alla cittadinanza italiana solamente al raggiungimento dei 18 anni e solamente se dimostrano di essere sempre stati residenti nel territorio italiano. Allo stesso tempo la legge sulla cittadinanza concede delle ampie possibilità ai discendenti dei cittadini italiani emigrati nei decenni passati, per cui se un cittadino discendente, un cittadino straniero che è nato e vissuto in altri paesi, è però discendente da italiani che non abbiano mai rinunciato alla cittadinanza, può automaticamente ottenere la cittadinanza italiana. In questa fase, nei primi anni 90, si aumenta l'attenzione proprio nei confronti dei discendenti degli immigrati italiani, questo appunto sia a livello di concessione di cittadinanza che a livello politico con il diritto di voto. Le seconde generazioni emergono come un aspetto estremamente importante e vivo della società italiana e si hanno anche delle importanti manifestazioni culturali di espressione artistica. Qui abbiamo riportato tre esempi di esponenti della musica, del cinema e della letteratura, come Gali, Fahim Buyan e la scrittrice Ija Bascego, come alcuni tra i tanti cittadini che vengono dalla seconda generazione dell'immigrazione, quindi figli di immigrati, che sono parte integrante del panorama artistico-culturale italiano, portando una sensibilità e dei punti di vista nuovi rispetto alla società. Un altro aspetto molto importante è quello che riguarda i rifugiati e i richiedenti asilo. Ci sono dagli anni 70 ad oggi delle differenti spostamenti di attenzione rispetto a alcuni problemi, alcuni gruppi di cittadini che richiedono asilo nel nostro paese. Negli anni 70 celebre il caso dei cileni che fuggivano dalla dittatura di Pinochet o dei vietnamiti, i boat people che scappavano dai conflitti nel sud-est asiatico, negli anni 80 alla volta dell'Etiopia e dell'Eritrea. Negli anni 90 poi saranno le guerre civili dell'ex Jugoslavia e la drammatica situazione in Somalia a portare a flussi di richiedenti asilo nel nostro paese. Poi negli anni più recenti il centro diciamo dei richiedenti asilo, delle aree di provenienza dei richiedenti asilo si sposta verso il Medio Oriente e l'Asia, Afghanistan, Iraq, fino alle recenti immigrazioni legate al conflitto in Siria. Per raccontare brevemente alcuni episodi degli ultimi 12 anni, quindi una sorta di veloce promemoria su alcuni eventi salienti, ricordiamo nel 2008 l'accordo del governo italiano con la Libia per quel che riguarda i respingimenti delle barche, il controllo, il pattugliamento del Mediterraneo, i respingimenti delle barche delle persone che tentano di fare la traversata del Mediterraneo e anche questione che si lega ai drammi appunto delle traversate e alla trasformazione del Mediterraneo in un cimitero di immigrati che tentano appunto la traversata. Nel 2010 la rivolta di Rosarno che mette al centro dell'attenzione pubblica il tema del lavoro straniero nel comparto agricolo, nelle terribili condizioni con cui vengono svolte le operazioni di raccolta di arance e di altri prodotti agricoli svolte appunto da immigrati spesso non regolari. Nel 2011 abbiamo le cosiddette primavere arabe, quindi una serie di sommovimenti politici, che avvengono nell'arco dei paesi del Mediterraneo, della sponda sud e in Medio Oriente, che porta a tutta una serie di cambiamenti politici e che hanno degli impatti molto importanti con la modifica dei flussi migratori. Nel 2015 poi viene depositata una proposta di legge sulla cittadinanza che apre ai diritti delle seconde generazioni, che suscita un dibattito molto caldo nel nostro paese, ma che verrà poi nel 2017, definitivamente almeno per adesso lasciata da parte non più in discussione. Nel 2016 poi è l'accordo dell'Unione Europea con la Turchia per far sì che questo paese tenga al suo interno i profughi siriani e faccia da contenimento nei confronti appunto della richiesta di questi profughi di accedere all'interno dei confini europei. È questo un esempio molto palese della cosiddetta esternalizzazione delle frontiere della Unione Europea. 2018-2019, veniamo agli ultimi anni, le scelte del Ministro degli Interni Salvini di chiudere i porti alle ONG, alle operazioni di soccorso nei confronti dei barconi degli immigrati che tentano di fare la traversata fino all'Italia. I cittadini stranieri in Italia però hanno un ruolo nell'economia fondamentale e li troviamo in ogni comparto lavorativo, eccezion fatta per il pubblico impiego, che rimane invece a pannaggio quasi straniero dei cittadini italiani. Vediamo qui in due grafici, il grafico a torta rappresenta la distribuzione dei lavoratori stranieri nei vari comparti di lavoro, quindi vediamo in verde i servizi alla persona e quindi in particolare i lavori di cura domestici che occupano quasi il 30% dei lavoratori stranieri e poi altri comparti importanti, l'industria il 18%, alberghi e ristoranti l'11%, poi il commercio, le costruzioni e l'agricoltura. Questo perché riguarda la distribuzione dei lavoratori stranieri tra i vari settori di attività. Ma se guardiamo invece al rapporto tra la presenza straniera e quella italiana nei vari comparti, vediamo come alberghi e ristoranti, agricoltura e costruzioni vedono quasi il 20% di manodopera straniera, mentre ancora i servizi alla persona vedono quasi il 40% della forza lavoro composta da cittadini stranieri. Quindi l'importanza del lavoro straniero in questi comparti risulta ancora più evidente. Ma le migrazioni in Italia in questi ultimi anni non riguardano solamente le immigrazioni, continuano importanti fenomeni di migrazioni interne, tra cui in primo luogo le migrazioni tra il sud e il nord della penisola, si contano circa 900 mila persone trasferite dal meridione al centro nord e dal 2000 al 2019, la Campania diventa la prima regione di partenza e sono spostamenti che vedono quasi un terzo dei migranti con un titolo di laurea. Si evidenzia anche un aspetto, un nuovo tipo di migrazioni, che è una migrazione pendolare a lungo raggio, quasi 180 mila laboratori meridionali che continuano a risiedere, ad avere la residenza nel sud, però sono impiegati nel centro nord o all'estero e quindi il 3% degli occupati del meridione, periodicamente, si sposta dal sud al centro nord. Ci sono anche delle fenomeni emigratori importanti, negli ultimi anni sono aumentate le migrazioni degli italiani verso l'estero, vediamo appunto una crescita soprattutto dagli anni 10 del 2000 e notiamo come gli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero sono passati dal 2006 a oggi da circa 3 milioni a oltre 5 milioni di persone. La metà di questi è partito dal sud, dal sud Italia, che si conferma quindi essere un'area di forte sofferenza economica e di emigrazione verso l'estero e appunto oltre che verso il centro nord. Per chi voglia approfondire, indichiamo un libro a cura di un collega del CNR, Corrado Bonifazi, dal titolo Migrazioni e integrazioni nell'Italia di oggi, che contiene una serie di saggi molto utili per avere il quadro della situazione più recente rispetto ai vari aspetti dell'immigrazione straniera in Italia e delle emigrazioni interne, ma anche della emigrazione verso l'estero. Ribadisco appunto la possibilità di scrivere al mio indirizzo per domande e curiosità e con questo vi saluto. È tutto. Grazie.